I pronostici erano a suo favore ma non si pensava potesse essere una vittoria così schiacciante. L'uscente Angelo Lanza è stato premiato dai cittadini di Flumeri con un vantaggio di ben oltre 900 preferenze sull'avversario Giuseppe Caggiano. 1.422 i voti che hanno legittimato il secondo mandato di Lanza e della squadra Progetto Flumeri sul totale di 1.952 votanti. Ci aspettavamo di vincere perché sapevamo che la nostra lista così com'era composta è stata composta appunto di persone volenterose. Oltre alle riconferme dei vecchi amministratori si sono aggiunti dei ragazzi splendidi, meravigliosi che ringrazio tutti perché tutti hanno collaborato a questo successo. Per cui ci aspettavamo di vincere probabilmente con uno scarto non così ampio. Siamo contenti e nello stesso tempo siamo anche un po' carichi di questa responsabilità che il popolo ci affida, che noi prendiamo di buon grado ma che ci spaventa un po'. L'andamento è stato chiaro sin da subito. Gli elettori di Progetto Flumeri radunatisi ai seggi poco dopo la mezzanotte hanno già intonato slogan e cori di festeggiamenti. L'altro aspirante sindaco Giuseppe Caggiano della lista Flumeri bene comune è rimasto fino all'ultimo con gran pacatezza ad osservare le operazioni di spoglio nei quattro seggi. A lavori conclusi si è avvicinato al sindaco Lanza per una stretta di mano che ha segnato la fine di un periodo elettorale fra i più concitati degli ultimi anni. Mille voti di scarto in un paese di 2.000 abitanti. Una cosa meravigliosa, meravigliosa. Grazie a tutti.